Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Fino al 18 febbraio, petto di pollo intero, 4,50 euro al chilo. Olio di semi vari, 1 litro, 89 centesimi. Pasta di semola, vari formati, mezzo chilo, 35 centesimi. Ricotta di mucca, caseificio San Leonardo, 2,99 euro al chilo. Carne macinata di bovino, 4,99 euro al chilo. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria.